Con l'entrata in vigore delle restrizioni per contenere l'epidemia di coronavirus, il traffico sulle strade è considerevolmente diminuito e i servizi di trasporto pubblico sono stati ridotti. L'assessore ai trasporti della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, fa il punto della situazione. Nuovo aggiornamento per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Oramai siamo ad una modulazione che nel rispetto delle ordinanze e nella necessità di ridurre al massimo la mobilità è parametrato sul 30% di offerta per quanto riguarda il ferro e del 50% per quanto riguarda il trasporto su gomma. Nonostante questa riduzione abbiamo lavorato e stiamo lavorando anche recependo le tante segnalazioni che ci arrivano dal territorio, dai pendolari, da chi insomma utilizza i mezzi. Abbiamo cercato di garantire quelli che sono i servizi essenziali, soprattutto di collegamento con gli ospedali, di collegamento con le nostre RSA, con le case di riposo, con i nodi di maggiore interconnessione. Io invito i cittadini anche in questi giorni, anche nei giorni futuri, a farci le segnalazioni per cercare di apportare tutte le migliorie e tutti gli accorgimenti che ancora non dovessero essere attuati. In alcuni casi abbiamo anche raddoppiato le corse per cercare di far rispettare il distanziamento all'interno dei bus o dei pullman, così come le ordinanze e direi la necessità proprio sanitaria di distanziamento ci consigliano. Nel contempo stiamo lavorando insieme alle altre regioni per ottenere dei miglioramenti nella conversione del decreto Cura Italia per andare incontro a quelle che sono le esigenze del settore. Da una parte le esigenze delle aziende che hanno visto ridurre quasi totalmente gli introiti dai titoli di viaggio e quindi soffrono di mancanza di liquidità e dall'altra quella degli abbonati che giustamente reclamano la necessità del rimborso o della validità del loro abbonamento anche in futuro fino in tale emergenza. Noi abbiamo chiesto l'istituzione di un fondo straordinario da 600 milioni valido ovviamente per tutto il Paese proprio per venire incontro a queste due esigenze. Da una parte quella di poter integrare gli ammortizzatori sociali per quanto riguarda i lavoratori del settore dall'altra quella di venire incontro alla mancanza di liquidità delle aziende e dall'altra l'idea è quella di posticipare la validità degli abbonamenti a quando questa crisi sarà finita. Noi speriamo che queste due richieste vengano accolte perché sono richieste essenziali per quanto riguarda la continuazione del trasporto pubblico locale seppur nei minimi termini attuali in attesa della ripresa. D'altro canto dobbiamo ridurre la mobilità il più possibile, dobbiamo stare a casa, ce lo dicono le ordinanze, ce le dicono i decreti, ce lo dice soprattutto le esigenze di salvaguardia della nostra salute. Le persone stanno però recependo questa impostazione, potrei fare anche l'esempio del traffico nelle nostre strade e dai nostri rilevatori sulla Fipili che è la strada più transitata della Toscana. Noi abbiamo visto un decremento nei giorni feriali del 70%, nei giorni festivi e prefestivi del 90%. Direi che per ora questa è veramente la linea da tenere. Muoviamoci il meno possibile, facciamolo solo per esigenze essenziali perché con più saremo rigorosi ora e con prima potremo ripartire dopo.